ciao a tutti leggiamo leggiamo una lettera che parla di questi famosi 50 metri che non arrivo a 50 metri l'ho già spiegato tantissime volte a continuano arrivare arrivarmi richieste di spiegazioni perché non vogliono non vogliono mirare con il piatto della finestra vogliono mirare con la punta dicono che molti lo fanno con bassissimi libraggio e vorrebbero sapere perché vi leggo brevemente questa lettera che ha ricevuto che diciamo che è una somma un po di tutte racchiude un po tutte le richieste che normalmente ricevo su questo argomento buongiorno signor berti mi scuso per averla disturbata ma non so proprio come risolvere il mio problema arcieristico alcuni anni fa dopo essere andato in pensione ho frequentato un corso per tiro con l'arco ai tempi gli istruttori mi aveva detto ti vedo bene come come alcuni vista e così è stato a fine corso col suo ausilio acquistato l'attrezzatura in parte usate in parte nuova usata ho preso un raiser spiegarelli explorer da 25 pollici flettenti sebastian flut da 66 con 36 libri poi ne parliamo poi parliamo di tutto è adesso la leggo velocemente poi parliamo di quello risposta che devo dare anche sull'attrezzatura poi siamo passati alla messa a punto una lungo da 28 pollici per cui il mio istruttore mi ha detto secondo me va bene un breast da 8 pollici e mezzo squadra di talamano abbiamo controllato il killer e regolato la corda alla suddetta distanza tenopiano acquisendo confidenza con l'arco ho iniziato a partecipare a qualche gara specifico che quando ho iniziato usare il suddetto arco lo stringa era di circa 3 centimetri 18 metri cioè per tirare al centro del bersaglio di 40 centimetri ai 18 metri la distanza freccia faccia inferiore patella bordo superiore era di 3 cm penso partendo dal basso 3 cm successivamente ho cambiato società ed alcuni anni fa al compimento del mio sessantesimo compleanno mia moglie mi ha regalato un bel raiser zenith arco nudo rosso ho cambiato anche i flettenti perché la spalla aveva qualche problemino ne ho comprati un paio con meno libraggio 30 libri se in meno dei precedenti ho venduto raiser e flettenti vecchi ho notato una differenza non tanto nei risultati ma nello string sono passato dai circa 3 centimetri a 18 metri a quindi più basso del precedente arco a un centimetro e mezzo sempre 18 metri ne ho parlato con l'istruttore della nostra della nuova società ma niente da fare posto leggendo è qualche tempo fa un signore viene in società e chiede se può tirare anche se di un'altra società il precedente non ha problemi per cui il tipo inizia a tirare anche lui un master arco nudo ma essendo alcuni centimetri più alto di me usa dei flettenti da 68 pollici per 28 libri contro i miei flettenti da 66 pollici per 30 libri lunghezza del raiser è identica 25 pollici con una sostanziale differenza con la patella a contatto della coca tira senza problemi a 50 metri non so dirle il nome del raiser so solo che è ben più economico del mio la domanda che mi faccio che le faccio è la seguente ho compreso che sono molti i fattori che influenzano una buona messa a punto dell'arco ma quali sono quelli che influenzano lo string la potenza dei flettenti il tiller in gara mi è capitato di vedere tirare ai 18 metri alcuni visti che usano il mio stesso raiser con stessa altezza dei flettenti 66 pollici e gli vedi usare uno string ben più alto del mio vorrei provare a tirare i 50 metri ma stando così le cose per la mira dovrei necessariamente usare la finestra dell'arco se avessi immaginato una cosa del genere avrei acquistato sin dall'inizio il raiser che ha quel signore risparmiando tra l'altro un bel po di soldini può cortesemente darmi qualche suggerimento in merito la ringrazio e porgo distinti saluti la lettera è firmata c'è un po scritto questo è quanto mi è stato detto al momento dell'acquisto del raiser best in arco nudo presso questo rivenditore da questo signore il quale mi ha detto i vitoni sono regolati a zero significa che il vitone è in posizione neutra rispetto alla potenza dei flettenti quindi nel suo caso i flettenti a 28 pollici del lungo sviluppano o meglio dovrebbero sviluppare la potenza nominale riportata su di essi il tiller è una regolazione relativa ai vitoni ovviamente ma non solo è un insieme di fattori come ad esempio i flettenti stessi partendo dal presupposto che il tiller non è un numero fisso vari infatti da 0 a un ottavo adesso poi ne parliamo e deve essere sempre positivo nello stile olimpico in base all'esigenza del tiratore positivo significa che la distanza tra flettente corda e maggiore nel flettente superiore mentre per l'arco nudo varia da zero a due ottavi sempre positivo in linea di massima il tiller deve stare all'interno di questi valori non c'è una regola una verità assoluta per quanto riguarda la messa a punto possibilità di regolazione di vitoni scaricare il vitone a disco anteriore di poco più di un giro la potenza riflettente diminuirà del 10 per cento caricare il vitone posteriore di due giri la potenza riflettente aumenterà del 20 per cento effettuata la regolazione con una chiave tenere fermo il vitone a disco anteriore e con l'altra stringere vita la disco posteriore non si capisce bene allora intanto poi parliamo rispondiamo alla domanda e ma tanto probabilmente non ha capito bene non posso credere che abbiano dato queste indicazioni il tiller si mette a zero se si mette uguale sia sopra che sotto e basta perché poi quello che conterà sarà il punto d'incocco poi sì per carità poi una regolazione una messa a punto più sofisticata più completa sarà quella che farà sì che il tiller migliore sarà quello che darà il punto d'incocco più basso possibile ma su questo ci sono altri video e che comunque nell'arco nudo possiamo anche avere un tiller negativo senza nessun problema a parte questo piccolo portava ma quello che mi fa pochino ridere che un con poco più di un giro la potenza dei flettenti aumenta del 10 per cento e cioè con un giro se io ho di flettenti di 30 libre a 28 pollici dando un giro ai vitoni aumento la potenza di tre libre e questo ahimè non è proprio possibile quindi al massimo sarà un decimo di libera quindi non il 10 per cento ma l'uno per cento anche perché i vitoni normalmente tutti produttori più o meno sono uguali hanno circa 12 giri dei vitoni quindi diciamo che normalmente cosa si fa si avvita o si svita tutto si contano i giri e si mette a metà anche perché i vitoni non servono non servono per aumentare o diminuire la potenza dell'arco i vitoni sono stati messi lì per variare di pochissimo la geometria dell'arco per affinché i due flettenti si chiudono con sincronia i vitoni non servono poi per carità cambiando la geometria dell'arco si aumenta o si diminuisce la potenza questo è ovvio perché le angolature cambiano quindi si la potenza aumento diminuisce però non è così che funziona o che dovrebbe comunque funzionare è solo un'attività di marketing il fatto che si dica che si possa cambiare la potenza dell'arco si coprono i flettenti che vadano bene al proprio allungo con la potenza giusta appunto veniamo alla risposta se avete aspettato fino a qua vuol dire che vi meritate anche una risposta quali sono quali sono effettivamente poi i fattori che influenzano lo string i fattori che influenzano lo string a parità di potenza dell'arco sono sicuramente l'ancoraggio se io ho un ancoraggio più basso quindi in questa posizione normalmente io ho un ancoraggio ad esempio in questa posizione e con 35 libre arrivo a 70 metri più alto abbiamo più alto abbiamo il l'ancoraggio più siamo non siamo ben allineati e più dovremmo aumentare aumentare lo string di conseguenza e quindi alle volte non arriviamo a 50 metri perché siamo già sotto cocca 40 metri quindi la prima regola è trovare un ancoraggio confortevole con la mano qua contro quindi trovare un ancoraggio confortevole ma che sia sufficientemente basso ma comunque sempre confortevole seconda cosa è la freccia la freccia deve essere ahimè la freccia bisogna spendere dei soldini per le frecce perché ci sono frecce più leggere e comunque frecce che hanno possiamo fare una buona messa a punto nelle quali volano dritte e dobbiamo provare a fare comunque una messa a punto almeno con la prova della carta per vedere se sotto cocca partono e non sbandano e quindi non vengono frenate nel loro volo e quindi abbiamo bisogno di più stringhe no abbiamo detto che se saliamo di string dobbiamo aumenta dobbiamo aumentare questa famosa parabola quindi prima regola è abbassare l'ancoraggio comprare le frecce delle frecce più buone leggere e nient'altro e poi l'ho visto qua che ha iniziato con 66 pollici e 36 libri effettivamente erano erano troppe c'è da farsi del male già anche 30 libri io mi ricordo quando ho iniziato ho iniziato con 30 libri ed era impossibile iniziare a tirare con 30 libri quindi è anche proprio una questione tecnica quindi mi stupisco che l'istruttore non abbia saputo dare questo tipo di informazioni riuscire a arrivare a 50 metri con 30 libre è solo una questione di tecnica e anche di materiali avere delle frecce un pochino più performanti che possono arrivare con facilità messa a punto tecnica e frecce giuste messa a punto tecnica e frecce giuste quindi messa a punto arco arciere freccia in modo che la freccia esca diritta che vada dritta verso il bersaglio che non abbia sbandamenti quindi una buona messa a punto frecce di qualità le vape ad esempio vape v6 con 30 libre possiamo usare delle vape v6 900 pesano pochi con 70 grani 28 pollici per avere un fog decente direi 80 grani quindi vape v6 900 con 80 grani alette e livanes s3 quindi un buon impennaggio che stabilizzi subito la freccia non la faccia sbandare alette livanes s3 coche vanno benissimo le histone g1 quindi le histone g coca 1 la corda non non lasciamoci tirare a usare corde con pochissimi fili credendo che può con pochissimi i fili le frecce vanno più distanti no nè vero con 30 libre usiamo senz'altro corde con 16 fili se non addirittura con 18 comunque almeno 16 fili la corda e proviamo ad ancorare un pochino più basso proviamo ad ancorare un pochino più basso e arriviamo a 50 metri ok dai proviamo sappiate mi dire se fosse funzionato grazie iscrivetevi al canale ciao a tutti